Una versione in chiave moderna di quella che viene definita la nobile arte marziale dei leggendari samurai. Parliamo della Kick Jitsu o Combat Jitsu, una disciplina di combattimento a contatto leggero e streveta, in grado di unire all'utilizzo di calci e pugni tecniche di leva e atterramento. La Kick Jitsu nasce in Italia nel 1988 per merito del maestro Patrizio Rizzoli, una disciplina marziale all'interno della quale sono fondamentali versatilità e apertura mentale. A livello locale, unici in tutta la provincia, sono gli atleti dell'associazione sportiva dilettantistica Budo Canarezzo, guidati dal maestro Lucio Piccioli, a praticare la disciplina marziale considerata come uno tra gli stili più efficaci della difesa personale. Non bisogna, soprattutto chi non è allenato, soprattutto chi non sa fare, improvvisarsi. La difesa personale, tra virgolette, è una scienza e va studiata come tale, quindi mai vedere un video magari su internet, dire ah so fare questa cosa, è ancora peggio venire in palestra a qualche lezione e sentirsi sicuri. È una falsa sicurezza e è la cosa più pericolosa che ci possa essere. Dal giugno 2011 la Budo Canarezzo ha ottenuto una nuova sede definitiva. Il dojo, termine giapponese che indica il luogo di allenamento, si trova all'interno del centro sportivo parrocchiale di San Geminiano ad Arezzo, fortemente evoluto da Don Francesco Bernardini. L'ambiente è curato bene, l'attività va avanti bene. Sono contento anche perché questo è uno sport, da quello che mi risulta, non di violenza ma di difesa più che altro. E poi anche un valore, mi sembra educativo, formativo della persona, quindi anche una possibilità per i ragazzi di stare meno sulla strada e essere un pochino più guidati anche nella loro crescita. Ogni allenamento inizia con una sessione di riscaldamento, seguita dalla lezione vera e propria che si basa sul lavoro a coppie, per poi concludere con lo studio delle tecniche di presa e di posizione. Senza preavviso tu non stai in guardia, tu non te lo stai aspettando e Stefano non ti dà segnale, lui parte quando vuole. Te ti porti all'esterno e lo controlli. Le tecniche apprese devono essere utilizzate nella vita reale solo in casi di necessità, quando nemmeno la fuga è consentita. forza, 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 vai, vai Leo, più veloce, via, ancora, forza, 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 più forte, più forte, via, via. più veloce, più veloce, meno movimenti, un movimento unico tra i pugni e il calcio, via, più veloce. ogni passo è un calcio, spingi, allunga, allunga bene, vai, vai, spingi, spingi, colpisci, vai. bellissima, bravissima. Nicola! Giuseppe! Francesco! Davide! Patroni! Subito un attimo, ma che ti attacco, eh? chi mi chiacchi e ti voglio attaccare! Virginia! Davide! E ora! Diego! Nicola! Virginia! Ricorda! Virginia! Matteo! V блummo! Yes! Letizio! Vem! 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 Grazie a tutti